No, cosa fai? Ma fa aria, no. Ah, bravo. Siete pronti? Che cos'è questo? Ah, conosco questo. Per il tuo, per il... Eh. Cioè, per il tuo... Ah, per... Tirifori l'uovo dall'acqua senza bruciarti. Eh, un gioco. Lei è una donna, lo sa che cos'è questo. Si può infamare. Cambiamo animale, abbiamo fatto il pesciolino. Perché lo annusi? Uno speaker bluetooth. Questo è quando si va in montagna, che vince, vince. Si produce le fustole del gatto, sembra. C'è l'uomo dalle orecchie, che ne so. Potrebbe essere un sottovuoto. Qualcosa che possa aspirare. Comunque uno a piacere. Perché deve aspirare un pinguino? Dai, è sempre più veloce. Ciao, bello! No, dai. Anche questo no. Eh, ho capito, io ci sto provando, però dammi la mano. Io rompo l'uovo. Ok, ci prendi il rosso. Bravo. Sei poco bel John Deft. Ah, bravo. Non vuole diventare volvino, cioè... Sì? È un... tipo un robot per i capezzoli. Per i capezzoli? Per qui. Non mi sembra un vibratore. È un vibratore. Quasi, quasi. Un clitorideo? Brava. Spettacolo, voglio. Mastica. Non so per se... La uso, signora. Che tipo questo, è carino. Con succhi e clitoride, tecnicamente si chiamava così. Ah, con un altro... Un po' più di succhi e clitoride in fondo. Cateria. Eh, sì. Guarda. Cosa fai? Per... Se ci devo... Clitoride. Clitoride. Ok? Sto facendo ridere, clitoride. No, di design. E mi ridi ancora una volta quando dico clitoride. Ce ne sono altri? Non giochiamo così. Ciao. Ciao. Ciao.